Anticevilone ancora molto debole su di noi, quindi tempo ancora non stabile, però i sistemi perturbati tendono a scorrere sulle Alpi o a nord delle Alpi, quindi noi ne risentiamo solo indirettamente. Quindi prevediamo un po' su tutto il Padovano, su Padova per domani, inizialmente una nuvolosità un po' più concreta, un po' più intensa, ma poi un veloce miglioramento, quindi già dalla mattinata dei rasserenamenti, rasserenamenti che ci accompagneranno in gran parte per domenica, quando nel pomeriggio, primo pomeriggio, gradualmente avremo un aumento della nuvolosità e poi nella notte, tra domenica e lunedì soprattutto, possibilità di precipitazioni sparse. Solo lunedì un po' di peggioramento, poi avremo qualche giorno di tempo tipico della primavera, tempo variabile, non dovremo aver pioggia almeno fino alla fine della prossima settimana, ma questo confermeremo. I venti sono deboli, inizialmente dai quadrati settentrionali, poi variabili. Le temperature, ecco, un piccolo abbassamento domani mattina, 3-4 gradi, ma poi subito 6-7 gradi per domenica, le massime dai 12-13-14 gradi, quindi piuttosto alte. Per quanto riguarda l'alta triatico, inizialmente mosso nelle prossime ore, ma poi tenderà a poco mosso. È tutto.